Abbiamo rilevato il marchio Vertosan nel 2007 e nel 2010 abbiamo ripreso la produzione con particolare attenzione al territorio valdostano e la tradizione di Vertosan che nasceva nel 1970. Sono Mario Bernardini della ditta Vertosan, ci trovate in Valle d'Aosta, a Châtillon. Le erbe che utilizziamo sono soprattutto genepini. La filosofia dell'azienda si traduce in passione, tradizione e territorio, rispetto per la tradizione dei procedimenti che ci vengono tramandati, sostenuto dalla passione per l'innovazione che ci ha portato a fornirci di macchinari destinati a migliorare il prodotto finale. Il nostro valore aggiunto risiede nella ricerca di produttori sul territorio che ci diano garanzie di produzioni e il più possibile tradizionali. Dal rapporto con i nostri produttori deriva la ricerca di fiori o erbe, per avere gli aromi che a noi servono per produrre i nostri ricori. La nostra intenzione è di fare una bella azienda familiare. Tutti noi potessimo partecipare a creare qualcosa che ha avuto un suo storico e noi vogliamo innovarlo e portarlo avanti.